Sì, so che vi piacciono tantissimo gli storytelling, quindi vi racconto che cosa è successo ieri, perché va raccontato. Parto per Roma, parto per Roma per un giorno, quindi parto il giovedì, torno il venerdì e voglio vedere solamente l'albero di Natale, un po' di luci natalizie, vieni Sofia, e quindi parto, arrivo a Roma, vedo tutto quanto e vado per tornare a Brindisi. Ciao signora Sofia, parto con l'aereo, torno con l'aereo. Aereo di ritorno, Roma a Brindisi, alle 8.35 di sera, arriva verso a Brindisi, intorno alle 22 qualcosa. Prendo l'aereo, raga, ve la faccio breve, dopo che ho aspettato tipo dalle 6 in aeroporto, perché dovevo stare due ore prima, e prendo l'aereo, deve atterrare a Brindisi, non a terra, aereo dirottato. Perché c'è nebbia. Quindi veniamo dirottati a Bari, a mezzanotte. A Bari ci diranno se verrà la navetta, ci diranno se ci sarà un altro aereo, ma presuppongo che se il primo non poteva atterrare, penso nemmeno il secondo. Quindi niente, arriviamo a Bari e praticamente aspettiamo la navetta un'altra mezz'ora. Cioè, tipo che io stavo sul finestrino e ho visto quando l'aereo stava proprio atterrando, no? Stava atterrando così, a un certo punto ho fatto così, dico, ah bene. E il comandante che faceva, no guarda, sto facendo un altro giro per vedere se posso parcheggiare, tra virgolette, se posso atterrare. Perché c'è nebbia, se no andiamo a Bari, a Bari, così, a Bari ci è toccato. E quindi siamo tornati con la navetta. Racconta Sofia, erano tre navette e io ho cercato di prenderla prima, perché comunque volevo arrivare il primo possibile a casa, no? Allora, nella prima navetta hanno fatto fermi tutti, prima devono entrare quelli con i trolley e io non avevo la priorità, non avevo il trolley. Poi devono entrare le famiglie, poi devono entrare gli anziani, poi le coppie. Oh, a me quando tocca! Niente, ho preso la seconda navetta, ma Giuseppe che era l'autista è stato talmente tanto gentile che secondo me voleva andare a dormire pure lui e quindi ha preso in un'ora e mezzo, eravamo praticamente a Brindisi. Chiamo la mia amica per farmi venire a prendere, dico, guarda, sto a venti minuti, vieni, vieni in aeroporto, prendimi, perché sono già arrivata. Erano tre navette, eravamo 300 persone, Ryanair. Sì, sì, sto arrivando, però c'è nebbia, ma va. Vabbè, dai, tutto bene, quel che finisce bene, è stata un'altra avventura, abbiamo messo un'altra crocetta su. Dopo volo cancellato abbiamo anche volo dirottato. Sofia, ci andremo più con l'aereo a Roma? Sì, ci andremo.